Chi ha sparato non è stato trovato perché i complici non parlano. Sapete cosa ha approvato il regolamento e deve essere approvato dal Senato da questa maggioranza che riteniamo gravissimo e vogliamo denunciare? Il reato di tortura psicologica da parte delle forze dell'ordine, ovvero le forze dell'ordine. Non posso più usare magari anche i modi forti necessari per fare confessare dei delinquenti perché rischiano di essere denunciati dei delinquenti per una legge che ha fatto questo Parlamento. La tortura psicologica. Siamo alla follia. Su questo dobbiamo batterci perché dobbiamo dire che siamo dalla parte di chi tutela la sicurezza, non dalla parte di chi commette i reati. Non si può pensare di lasciare liberi lo spacciatore e condannare il poliziotto che porta avanti le indagini. E quando sento dire che i reati sono diminuiti, guardate, vuol dire non affrontare la realtà. Ci raccontano tutti che dal 2013 al 2014, che sono gli ultimi dati definitivi, i reati predatori sono aumentati, lo dice il ministero di Alfano.